Ciao ragazzi, buonasera a tutti, aggiornamento dell'SR25 della AC East Coast che vi ho fatto vedere questa mattina, replica che appena provata praticamente aveva già sgranato, inizialmente pensavo fosse il pistone, in realtà una volta aperto mi sono trovato l'ingranaggio settoriale con le viti spezzate e di conseguenza ecco il motivo del perché girava a vuoto, nonostante questo oltre alla spessorazione che praticamente in questa replica non esisteva, ho trovato montato questo Titan 35K della GEG che signori miei in un DMR come questo che dovrebbe sparare a colpo singolo ma era stata anche usata la raffica in questo caso nel custom precedente, faceva 35 palline al secondo, 35 palline al secondo con una cana da 405 mm, non dico niente perché ognuno fa quello che gli pare ma io non lavoro in questa maniera, lasciamo stare il motore, assurdo per questi parametri, oltretutto era stato montato anche un T.O.P.A.P. della Max Model marchiato Specnarms, allora ragazzi non è perché un T.O.P.A.P. costa 80 euro che per forza di cose sia il meglio in assoluto che si possa trovare sul mercato, assolutamente, infatti in questo caso questo T.O.P.A.P. qui non c'entrava assolutamente niente, faceva fatica anche a pescare i caricatori e quindi è stato anche sostituito il T.O.P.A.P. con uno della Lonex che adesso qui si vede non si vede, vabbè ok, tutto naturalmente è stato rispessorato tutto, rincollate le boccole, rifatto il lavoro da zero e montato un motore basilisk 17k e questo è il risultato e una raffica da tre colpi. Allora suono fantastico, reattività della madonna, non è più, non assomiglia più al fucile che è arrivato questa mattina, o almeno per quel poco che sono riuscito a provarlo perché è un colpo ed è partito e tiro perfetto, fantastico, esce alla potenza di 0,95 e cos'altro? Beh mi raccomando ragazzi quando acquistate nei mercatini purtroppo si può incorrere anche in queste cose, replica bellissima, customizzata da mio cugino e poi ci si ritrova con un solo pezzo di metallo e polimero non funzionante. Bene, come sempre ragazzi vi invito a seguirmi sui miei canali, continuate a seguirmi su Instagram, Facebook, YouTube e noi come sempre ci vediamo al prossimo custom, ciao!